Stiamo con Capircio del Lombardo Radice. Anche per te un commento in questo esordio di Amarlo Junior Club. Beh, abbiamo sicuramente il secondo tempo non è stata una buona gara, non è stato sottolivello. Mentre nel secondo tempo abbiamo dimostrato comunque di saper giocare a calcio, solamente che loro erano molto più superiori perché mancavano diversi elementi, troppi. Hai fatto il toti della situazione con un rigore bellissimo. Beh, in quel momento ho pensato subito di fare le cucchiaie perché anche prima ho fatto al portiere nostro la situazione con un ragazzo della squadra avversaria. Allora ho pensato che io faccio pure io. Perché è andata bene? È andata bene. Lo faccio spesso in allenamento anche con i miei compagni di squadra, perciò...